Una riunione di maggioranza di routine, precisano i componenti dello staff del sindaco, quella convocata da Salvemini, ma in realtà, secondo indiscrezioni, è stato un processo alle intenzioni. Sotto esame è finito principalmente il consigliere Massimo Fragola, come era già ben chiaro dalle prime ore del pomeriggio. Sulla pagina Facebook Rifragola, infatti, il consigliere Patti e la consigliera Mariani hanno voluto togliersi da subito qualche sassolino dalla scarpa, pubblicamente e senza aspettare le porte chiuse della riunione. Insomma, i panni sporchi si lavano in famiglia, sembra un detto tramontato tra i consiglieri, che hanno affidato al social le proprie personali dichiarazioni. Una riunione di maggioranza alla quale, come anticipato, non hanno preso parte i consiglieri di prima lecce e proprio il gruppo Stampelle è stato il principale argomento all'ordine del giorno, anche perché, se non si trova una sintesi per ottenere nuovamente il loro appoggio, sarà impossibile governare. Non entusiasma neppure l'idea di accettare il supporto occasionale dei consiglieri d'opposizione, che di volta in volta decidono di andare in soccorso del sindaco. Una soluzione tampone di questo tipo non permetterebbe di governare in libertà. E quindi? E quindi la riunione si è conclusa dopo oltre due ore con un nulla di fatto e con un salto nel passato. Improvvisamente sembra essere tornati indietro nel tempo, con la spina dell'amministrazione Salvevini, nuovamente nelle mani del senatore Marti, padre nobile del gruppo prima lecce, e con un predissesto alle porte. I consiglieri di prima lecce dal canto loro sono stati chiari. O il sindaco ritira la delibera di predissesto che a loro dire non tutela i cittadini, oppure tutti a casa, ripete fin amore come un mantra.